Ciao a tutti, sono Saverio Cuoghi, produttore di Innovazione 2020, il primo podcast italiano di conversazioni e storie sull'innovazione e in due minuti vi racconterò otto cose che ho imparato sui podcast. Innanzitutto la fruibilità, il vostro target può ascoltare i podcast praticamente ovunque e in qualunque occasione. I numeri in enorme crescita, da 2015 ad oggi la crescita è stata quasi del 300%, ora abbiamo in Italia 3 milioni di ascoltatori abituali di podcast. E poi ci sono i big player come Google, Spotify, Apple che stanno investendo e scommettendo molto sul podcasting, considerandolo uno strumento chiave per la comunicazione del futuro. Una grande focalizzazione dell'ascoltatore sui contenuti, non distratto da altri segnali. Il tempo d'attenzione dell'ascoltatore o consumo medio percentuale è assolutamente superiore ad ogni altro media. Perché si ascoltano i podcast? Per informarsi, per aggiornarsi, per studiare, per approfondire, ma anche per divertirsi e per ascoltare storie. Le organizzazioni pubbliche e private, sia i grandi marchi che le piccole imprese ormai lo stanno capendo. Quali format? Monologhi, interviste, conversazioni, ma anche tutorial e vere e proprie storie sceneggiate. Cosa vi serve per registrare un podcast? Un buon microfono, uno smartphone oppure un computer, un software di editing audio come Audacity, ma soprattutto un progetto ben definito, le idee chiare, la conoscenza del mezzo, una giusta dose di creatività e un piano di comunicazione, soprattutto per quanto riguarda l'online. Insomma, il podcasting è un modo efficace, caldo e profondo per stringere una relazione comunicativa empatica con il vostro target. Un vecchio ma nuovissimo strumento di comunicazione basato sul mistero della voce e sulla radio. Grazie a PIA Social Academy e più che mai buon ascolto a tutti! Grazie a PIA Social Academy!